Eccoci nel salotto di Vene Allora, è arrivato un altro, questo giro non posso dire pacchettino, è arrivato un grande pacco che so già e immagino, però come sempre facciamo l'unpackaging Si dice unboxing o unpacking, Irene? Insieme andiamo a vedere che cosa contiene al suo interno Strumento da lavoro E qui ci vuole impegno, ci vuole impegno Mi raccomando i bambini a casa, non facciano questa operazione se non accompagnati dai genitori, fatelo fare soltanto ai genitori, mi raccomando soltanto adulti, all'isopra dei 16 anni Ragazzi, allora dovrò fare anche un tutorial Anche un tutorial per come aprire i pacchi Va bene Voilà, magia si è aperto il pacco Ecco, allora abbiamo cornici di svariate misure, tutto in nero perché comunque il mio arredamento è grigio, bianco e nero quindi molto minimale e perciò è la scelta di varie misure per fare una bellissima art wall con appunto quelle più piccole, quelle più grandi, le a 4, questa gigante 50x50 sono due o una, non ricordo è una E voilà E oh, i poster che si intravede, ci sono animali ma ve li faccio vedere solo dopo che l'avrò posizionata all'interno delle cornici e nota che le avrò disposte e farò vedere che spettacolo questo poster quadro di Poster Store Grazie Grazie